Ciao, sono Chiara e sono una cuoca, non di professione ma per passione. Cucino per i miei figli, piatti della tradizione ebraica e non. Per questo ho deciso di condividere con voi le ricette della mia famiglia. Nella mia cucina non ci sono le cose, ma anche attività, passione e... DIVENEMENTO! Cari amici, buongiorno e bentornati nella mia cucina Rosso Limon. Oggi con un piatto di carne, visto che mi è stato chiesto di fare più piatti di carne e quindi vi accontento subito. Il piatto di oggi io lo chiamo Ligia Prachis a modo mio, perché Ligia Prachis sono un piatto di carne e riso che sono avvolti in una foglia di vite. Io ho sempre difficoltà nel trovare foglie di vite e quindi lo faccio con la foglia di verza. Sono delle foglie di verza, ripiene di riso, carne con delle spezie e poi stufate nel pomodoro. È un piatto che va molto bene per Shabbat, perché le foglie di verza più stanno nel pomodoro e vengono stufate, più buone sono. Quindi fate il venerdì e scaldate il sabato, sono veramente buonissime. E ora vi do gli ingredienti per quattro persone per Ligia Prachis a modo mio. Gli ingredienti sono i seguenti, otto belle foglie di cavolo verza che poi scotterò, appena appena scottate. 150 grammi di riso basmati che ho già bollito, sale, pepe, noce moscata. Per il ripieno inoltre, 400 grammi di carne, 200 sono carne macinata e 200 sono di salsiccia. Un panino ammollato nell'acqua, un uovo intero e per la salsa di pomodoro in cui vanno stufati gli aprachis, cipolla, olio e salsa di pomodoro. E visto che ora si comincia a far sul servo, cioè si comincia a cucinare, io mi metto il mio grammi diule rosso limone e si comincia davvero a far sul servo. Prepariamo la farcia per riempire le nostre foglie di cavolo, se le trovate rivite meglio ancora. Metto il macinato tutto insieme, l'uovo intero che ho già aperto e controllato secca-cè. Metto per ora metà del panino, per il gremo, sale, pepe, una bella spolverata di pepe, noce moscata, abbondante, buona. Amalgamiamo tutto, quando sarà amalgamato aggiungiamo il riso bollito. Quindi andiamo a lavorare intanto l'impasto, se vediamo che è poco morbido si mette un altro po' di panino ammollato. Io intanto ne ho messo mezzo e provo l'impasto. Ecco l'impasto è leggermente molle, ci metto tutto il pane e lo lavoro ancora. Quando è lavorato e ben amalgamato ci aggiungiamo il riso. Per sapere se la carne è giusta, teoricamente io dovrei assaggiarla, ma siccome la carne è cruda, con anche l'uovo crudo dentro mi fa abbastanza schifo, non l'assaggio, la sento dall'odore. No, questa è buona, è giusta, non ci metto nient'altro sale, ma siccome è ben amalgamato, adesso ci metto il riso bollito e faccio un bel, fatto bene. Gli aprakis veri e propri hanno molto molto riso e poca carne, ma questi siccome sono gli aprakis a modo mio, io ci ho messo molta carne e poco riso, quindi diciamo che sono due terzi di carne e un terzo di riso, ma se andate a mangiare gli aprakis veri e propri, quelli nella foglia di vite, c'è molto 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 riso. Ecco fatto, l'impasto è pronto. Ora l'impasto è pronto, l'acqua bolle, l'ho già salata, andiamo a scottare, solo scottare le foglie di cavolo versa. Ne metto due per volta, non più di due, e appena saranno leggermente ammorbidite, posso mettere anche tre, le posso togliere, perché in realtà non serve a farle cuocere, ma perché se io le riempissi così si romperebbero. Serve solo a renderle un po' meno dure, evitare che si rompano quando vada a riempirle, insomma. Due minuti e si tolgono. Eccole, sono pronte, vedete? Sono ammollate. Le foglie di vita sono scottate, vedete? Sono morbidi, sono scedevoli al tatto. È tutto pronto, adesso vi faccio vedere come si confezionano questi bauletti, perché alla fine devono essere dei bauletti. Prendiamo la foglia di verza intera, e la cosa importantissima che bisogna fare in tutti i modi, è sbarazzarsi di questa costola che c'è nel mezzo. Perché, non solo perché è dura a mangiarla, ma perché se io non la togliessi, non riuscirei mai a girare il bauletto, perché mi si romperebbe. E quindi la tolgo, tanto questa non è buona comunque. Vedete, adesso è fatta con una farfalla, la posso riempire. Divido il mio impasto in otto parti diverse, per essere sicura che per ogni foglia di vite vi ci vada l'impasto giusto. Ecco, questo è un ottavo dell'impasto che ho fatto, lo metto al centro, e lo piego come se fosse un pacchetto. Così, e ancora così. Ecco il primo pacchettino è pronto, ve ne faccio vedere un altro. tolgo la costola centrale, guardate, questa la dovete proprio togliere, non è una scelta, non è una finezza, non vi si rigira l'aperta, sempre. E se mi si rompe. Ecco, prendo sempre un ottavo del mio impasto, lo metto qui al centro, chiudo come se fosse un bauletto, ancora. E ancora, ed eccolo a seconda. Ora si fa il sugo, perché sono già pronti, facciamo il sughetto, che è un sugo molto semplice, cipolla tritata, soffritta nell'olio, sugo di pomodoro e sale. E poi li facciamo cuocere e stufare in questo pomodoro per circa 20 minuti. Trito la cipolla molto 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 fredda. Abbiamo tritato molto finemente la cipolla e la dobbiamo fare andare molto bene. La cipolla deve essere ben soffritta e quindi 5 minuti per rendere lucida e morbida questa cipolla. Appena è morbida buttiamo la salsa di pomodoro e quindi ci vediamo tra 5 minuti. Allora, la cipolla è soffritta, è traslucida, è cotta. Adesso ci butto tutta la salsa di pomodoro, una bottiglia intera, perché questi aprafis devono avere molto sugo. E anche un pochino d'acqua. Sale Amalgamiamo tutto E senza aspettare che il sugo cuocia Ci butto subito dentro gli involtini E li faccio, diciamo così, cucinare a fuoco lento finché non è ritirato. Ci vorranno circa 20 minuti. Vi faccio vedere come vanno messi gli involtini. La chiusura la metto sotto Chiusura, sotto, così si sigilla Si copre con un coperchio e si cuociono per circa 20 minuti. A fuoco dolce. Allora, abbiamo finito Sono passati 20-25 minuti Questo è il risultato del nostro piatto di oggi Eccoli via Pratis a modo mio Eccoli qua Io vi auguro Che il profumo dello Shabbat Questo è il profumo dello Shabbat e non è la vostra casa Quindi vi auguro di passare una bellissima serata Un buono Shabbat E soprattutto e sempre Rosso limono vi auguro Bete a vola Bete a vola